Buongiorno, sono dottor Franco Migliori e oggi vi vorrei parlare di mastoplastica riduttiva, argomento sicuramente vastissimo, ma mi piacerebbe sottolineare un aspetto di questo intervento. In molte pazienti si potrebbero porre il problema di quali segni restino dopo l'intervento. Chiarito il concetto di base che le cicatrici tanto sono più lunghe quanto più il seno è lontano dalla posizione corretta e lontano dal volume corretto, ma fatta questa premessa e considerato che oggi i materiali e le tecniche di sutura ci permettono una qualità delle cicatrici molto migliore rispetto a quella che potevamo ottenere 20, 30, 40 anni fa, devo anche prendere atto del fatto che oggi le pazienti sono molto più evolute, si sono molto più aggiornate e non si preoccupano più tanto della qualità delle cicatrici, probabilmente anche perché sanno che sono decisamente buone oggi, ma si preoccupano della corretta riuscita dell'intervento. Quello che a loro interessa è avere nuovamente un seno di forma, posizione e volume corretto. Grazie.